Buonasera, allora benvenuti a tutti, grazie della vostra partecipazione. Grazie, ci scusiamo per questo lieve ritardo ma diamo inizio ai lavori, i tempi si recupereranno comunque di qualche minuto in quanto non sarà con noi per i saluti iniziali la vice sindaco, la professoressa Pillati che ci raggiungerà più tardi probabilmente per le conclusioni, per partecipare alle conclusioni a causa di una emergenza imprevista che l'ha costretta a partecipare a un altro incontro. L'incontro di oggi nasce dal desiderio di affrontare dal punto di vista della scuola dei problemi che nella realtà molti di noi insegnando, dirigendo, partecipando comunque alla vita scolastica si sentono di incontrare di fatto tutti i giorni magari latenti in certi pregiudizi di fondo, in certi schematismi, in certe visioni stereotipate che tendono sempre di più a contrapporre un po' come alibi, insomma su posizioni di comodo, le posizioni relative a queste culture che dovrebbero essere contrapposte e opposte oppure in qualche maniera contrastanti. Per affrontare questo tema in modo un po' atipico con rispetto al panorama attuale, insomma delle iniziative di formazione soprattutto per docenti, che naturalmente partono da punti di vista diversi e molto più diffusi. Siamo riusciti ad avere la disponibilità di tre ospiti molto eminenti che rifletteranno diversi punti di vista, insomma, accademico del mondo della scuola e poi naturalmente avremo il contributo su cui contiamo di una discussione che ci auguriamo, insomma, viva e sostanziale nel confronto con tutto il resto della rappresentanza del mondo della scuola. Scusate, non mi dilungo oltre, passo la parola al dottor Schiavone, il dirigente del nostro ufficio di ambito territoriale, per i saluti introduttivi e poi passeremo ai relatori. Buonasera a tutti voi, un saluto agli studenti, ai professori e ai dirigenti scolastici che vedo qui presenti, benvenuti a tutti. Un ringraziamento alla vice sindaco Marilena Pillati che ha voluto, come dire, accoglierci in questa sala di tutto rispetto, insomma, che sicuramente ci aiuterà ad ascoltare con maggiore attenzione i nostri relatori, poi la saluteremo quando sarà in grado di venire a salutarci. Un saluto anche ai funzionari della città metropolitana che stanno seguendo con grande passione il Festival della Cultura Tecnica con i quali noi abbiamo sempre collaborato. Un saluto e un ringraziamento ai nostri illustri relatori che hanno voluto regalare alle scuole bolognesi, a tutti noi, una approfondita riflessione sul significato, sul significativo, scusate, il sempre più attuale tema oggi all'ordine del giorno. Cercherò di motivare questo mio modo di vedere l'incontro odierno. Infine, un ringraziamento al professor che ha appena parlato, Edoardo Soverini, che con grande passione, sapete, da un anno e oltre opera presso l'ufficio scolastico, e grande competenza ha creduto, ha voluto e ha reso possibile questo seminario, e che sicuramente continuerà a seguirci per il futuro. Ascolterò con piacere esperti su argomenti che da decenni mi appassionano e mi coinvolgono. Da quando, giovane maestro circa 30 anni fa, coi colleghi fummo chiamati ad aggiornarci sui nuovi programmi della scuola primaria, promulgati nel 1985, ma già sugli stessi programmi si dibatteva da anni, non nacquero così per decreto del ministro in pochi mesi. Programmi quelli universalmente apprezzati perché esplicitamente affermavano che il sapere era da considerare un valore universale, imprescindibile, assoluto. In questi anni la scuola vuole, deve anzi, anche promuovere il saper fare, che è da considerare come lo sfondo integratore del Festival della Cultura Tecnica, del quale questo seminario fa parte. Integrande. Attenzione però, questo seminario lo vuole testimoniare, credo che riuscirà a farlo. Vogliamo coltivare il sapere e il saper fare, non passare dal sapere al saper fare, come spesso, troppo spesso si sente dire. Noi vogliamo continuare a coltivare il sapere e il saper fare, perché il saper fare motiva i ragazzi, è necessario e utile. Ma non vogliamo, come dire, con questo dire che il sapere è meno rilevante. Infatti i programmi dell'85, finisco subito, non vi preoccupate, contenevano un'affermazione importante ed attuale che vide impegnati i collegi dei docenti per alcuni anni. Il documento invitava la scuola primaria, motivandolo diffusamente, ad operare nella consapevolezza che tutte le discipline hanno pari dignità epistemologica. Io credo che questa affermazione per noi allora risultò, come dire, sicuramente impegnativa. Molti docenti, molti colleghi stentavano a credere che anche l'educazione all'immagine o l'educazione motoria potesse avere una propria dignità epistemologica, potesse aiutare a crescere, a formare le nuove generazioni. E io credo che da allora, come dire, forse, ne discutemmo tanti in quegli anni, in collegi anche molto vivaci, si è meno discusso e questo lo vedo come un rischio rilevante. Noi siamo qui per, invece, credo, spero, riaffermare questa consapevolezza. Abbiamo bisogno di una cultura tecnica, certo, vogliamo che gli studenti frequentino gli istituti tecnici e tecnologici, ma la scuola deve poter offrire a questi ragazzi percorsi di studio anche nel campo artistico, musicale, espressivo, in senso lato. L'organico dell'autonomia, vogliamo, si muova in questa direzione. Docenti di arte, di musica, disegno operano già in molti istituti tecnici. Occorre opportunamente impegnarli anche in attività di arricchimento dell'offerta formativa perché chi è motivato, chi ha una passione, possa continuare a coltivarla anche a scuola. So che su questo argomento ci sono molte perplessità, però io credo che sia assolutamente necessario cercare di vedere il bicchiere mezzo pieno, piuttosto che mezzo volto. Sì, no agli specialismi, no alla contrapposizione fra cultura scientifica e cultura umanistica, ne siamo convinti e sappiamo che diventa sempre più necessario superarla, tale contrapposizione, in funzioni di imperativi, quale ad esempio la sostenibilità. Come si fa a pensare che impegni che i politici, insomma gli amministratori, sono chiamati a sostenere che possano trovare riscontri nella realtà se appunto non cresce questa consapevolezza. Tale consapevolezza ha spinto tutti noi ad impegnarci nel rilancio della cultura tecnica. Nel contempo però tutti noi, anche gli amministratori della città metropolitana, ci siamo preoccupati della rincorsa, per esempio, ai licei delle scienze applicate, solo perché in questi licei non si insegna il latino. Ed è sicuramente questo un elemento di cui tutti noi dovremmo riflettere, non solo noi, chi ha più potere di noi. Tutti vediamo poi il rischio delle nuove tecnologie che portano tanti ragazzi ad isolarsi e ad esserne dominati. La scuola, il Festival della Cultura Tecnica, mostrano come possano essere invece proficuamente utilizzate grazie all'intelligenza, alla consapevolezza e alla creatività di voi studenti e docenti, anche quelli, anche i docenti di latino e greco. Grazie e buon lavoro a tutti voi. Bene, grazie dottore. Passerei subito, come da programma, la parola al professore Lucio Russo. Sì, grazie. Dunque, il titolo della giornata parla appunto di una contrapposizione falsa tra le due culture. Ora è certamente falsa, come dire, in linea di principio, anche insensata direi, però purtroppo è ancora viva nel dibattito. Si sentono continuamente, da una parte, come dire, gli umanisti si sentono assediati da un eccesso di cultura scientifico-tecnica che toglierebbe spazio, diciamo, ai valori umani e si è parlato molto dell'utilità dell'inutile, insomma, per cercare di controbattere questo. Ecco, io credo che questa polemica sia sbagliata perché siamo lontanissimi da un eccesso di cultura scientifica, insomma, anzi, stiamo assistenti a un dilagare dell'analfabetismo scientifico, insomma. Quindi chi pensa che la cultura umanistica soffra per un eccesso di cultura scientifica è proprio sbagliato avversario, credo, insomma. Voglio dire, la polemica sull'utilità dell'inutile è certamente giusta se si tratta di opporsi al tentativo di restringere le conoscenze e le conoscenze immediatamente utilizzabili in termini economici. Ma chi persegue questo tipo di conoscenze non si occupa di scienza, in genere, insomma. preferisce studi come il marketing, insomma, la pubblicità, può fare l'analista finanziario, diciamo. Queste sono conoscenze utili, insomma. Le conoscenze scientifiche sono certamente utili, ma in modo molto più mediato. Scusate, non si sente? Forse adesso meglio. D'altra parte, è vero che non si può, secondo me, avere una vera cultura umanistica, perlomeno non si può avere, per esempio, una cultura storica, una cultura filosofica che in genere vengono considerate parte del settore umanistico se non si sa nulla di scienza. Non voglio fare degli esempi banali, insomma, ma se si vuole capire il ruolo che ha avuto l'Europa nel mondo, insomma, per 300 anni, la leadership, diciamo, bisogna parlare della rivoluzione scientifica del 600, insomma, che è da quello che l'Europa ha assunto il suo ruolo. E non si può parlare di rivoluzione scientifica del 600 senza entrare nel merito, diciamo, delle acquisizioni scientifiche. E questo è vero anche per l'antichità. Io credo che non si possa capire bene l'ellenismo, insomma, se non si scoglie il ruolo che ha avuto la scienza nella civiltà ellenistica, per esempio. E naturalmente non si può fare filosofia della scienza ignorando la scienza. Quindi se si ignora la scienza non si può fare storia, non si può fare filosofia, non si possono fare altre cose. Ecco, è vero però anche l'inverso. Cioè, sbagliano anche coloro che pensano che nella scuola italiana ci sia un eccesso di cultura umanistica e pensano che è in particolare di cultura classica. Molti se la sono presi con l'eccesso di studio delle lingue classiche e che dovrebbe essere corretta, diciamo, spostando l'asse verso la cultura scientifica tecnologica e togliendo spazio agli studi umanistici. Ecco, in realtà io credo che non si possa, inversamente a quello che ho detto prima, non si possa avere una vera cultura scientifica ignorando la storia, la filosofia e altri campi della cultura. Cioè, in realtà, il problema non è la contrapposizione tra due culture diverse, il problema è che la cultura è sostanzialmente una, insomma, e ci sono mille fili che legano i vari aspetti, diciamo. E in particolare, io volevo accennare ai problemi della didattica scientifica, perché molti insistono giustamente sul basso livello delle conoscenze scientifiche, in Italia in particolare, e questo è parzialmente vero, però io credo che sia un problema che coinvolge tutto l'Occidente, insomma. Ci sono state in vari sondaggi, inchieste negli anni scorsi, io ricordo in particolare, mi colpì quella di cui forse si è parlato anche molto, insomma. Qui si chiese a studenti di quindicenni di tutti i paesi dell'Ox perché la notte si alterna al giorno, insomma, e la maggioranza non lo sapeva in nessuno dei paesi sviluppati, insomma. Quindi non si può dire, certo che ci sia un eccesso di culture scientifiche. Come dire, io credo che ci sia un problema di qualità della didattica, dell'insegnamento delle scienze, delle materie scientifiche, e credo che la didattica scientifica sia drasticamente peggiorata negli ultimi 40-50 anni, insomma. Volevo accennare un po' a questo, insomma. e confrontando, diciamo, gli studi scientifici che ho fatto io da ragazzo, diciamo, con il contenuto dei manuali di oggi, io credo che ci sia una differenza significativa. Cioè, mentre... come dire, quando ero ragazzo, però, alla scuola media, allora si chiamava così, non c'era nessun insegnamento di tipo scientifico. Quindi, un vero insegnamento scientifico l'ho iniziato solo al liceo. Però questo, se da una parte, diciamo, era un danno, dava pure dei vantaggi, nel senso che l'insegnamento scientifico potrebbe essere più razionale. Per esempio, un esempio che... Penso a come io ho studiato la chimica. Mi hanno insegnato la chimica cominciando a farmi capire qual era la differenza tra mescolare semplicemente, fisicamente, due materiali oppure unendoli con una reazione, grazie a una reazione chimica, che formasse una sostanza nuova. Insomma, una volta che ho capito la differenza, potevo mi spiegarlo cos'era una sostanza chimica. Cioè, una sostanza chimica è qualcosa che non può essere separata in componenti se non con reazioni chimiche, ma non può essere separata fisicamente. Se io unisco, insomma, il metallo morbido sodio con il gas velenoso cloro ottengo del sale da cucina che non ha nulla a che vedere con questa qualità. Mentre se mescolo acqua e vino tutti si accorgono che quelle che ottenuto è vino anacquato. Insomma, cioè si mantengono le qualità delle due sostanze componenti. Quindi questo portava a una definizione del concetto di sostanza. Dopodiché si potrebbe definire il concetto di elemento come una sostanza che non potrebbe essere scissa nemmeno chimicamente come in sostanze diverse. E una volta che si avviene i concetti di elemento e sostanza si poteva parlare della legge di proporzione definita e questo introduceva l'ipotesi atomica e il concetto di atomo. Poi con un altro percorso si arrivava al concetto di molecola. Oggi se si apre un manuale si è scritto che una sostanza è un materiale fatto da molecole tutte uguali. Cioè il concetto di molecola è dato per scontato nessuno sa come si arriva al concetto di molecola. Cioè mentre il percorso tradizionale era un percorso che dai fatti arrivava alla teoria oggi si tende a trasmettere direttamente le teorie in modo autoritario senza motivarle in nessun modo. Questo mi sembra come dire un peggioramento qualitativo importante che è peggiorato naturalmente dall'esigenza dal bisogno dalla volontà di aggiornare i programmi cioè di inseguire le ultime teorie. I miei figli quando hanno studiato fisica al liceo diversi anni fa gli hanno spiegato la fusione fredda e quando si è scoperto che era uno bufalo loro avevano già finito il liceo non l'hanno più saputo insomma quindi l'essere sempre più aggiornati non è detto che sia un vantaggio e volevo fare qualche altro esempio non so dell'eocentrismo insomma come si deve insegnare l'astronomia ora il modo sano di insegnare l'astronomia consiste nel far osservare il cielo e partire diciamo dai fenomeni osservabili quali sono i moti degli astri che si possono vedere guardando il cielo ecco la didattica scientifica usuale oggi è quella di cominciare a spiegare che esiste un sole fermo ci sono i pianeti che girano intorno e così via cioè si dà una teoria che serve a risolvere un problema posto dalle osservazioni però il problema non viene posto viene data la soluzione senza sapere di quale problema è ora una delle conseguenze di questo atteggiamento è che alcune persone secondo me non stupide ma abissalmente ignoranti capiscono che non si possono fidare diciamo di conoscenze scientifiche assunte passivamente e criticamente e quindi negano anche le verità più elementari scientifiche cioè si moltiplicano per esempio i siti in internet in cui si dice che la terra è piatta scritti da persone a cui non è stato mai spiegato come abbiamo fatto a capire che la terra è tonda quindi loro pensano che si dice che la terra è tonda solo perché ci sono delle foto date dalla NASA e quindi deducono che è un complotto dalla NASA che si è inventata la sfericità della terra ora il percorso che ha portato a capire la sfericità della terra è un percorso tutto intorno alla cultura greca insomma se si capisce che la sfericità della terra si era capito nel quinto secolo avanti Cristo certo non si può dire che sia un complotto della NASA però per fare questo bisogna sapere un po' di storia del pensiero e più in generale insomma recuperare il cammino che dai dai fatti e anche dai problemi concreti spesso tipo tecnologico insomma ha portato all'esigenza di sviluppare le teorie significa fare anche un po' di storia della scienza e la storia della scienza è una parte importante della storia e quindi significa anche avere una cultura storica d'altra parte capendo che il rapporto tra la fenomenologia e la teoria che la spiega non è un rapporto meccanico cioè la teoria è qualcosa che richiede un atto creativo che riesce a spiegare i fenomeni ma non è univocamente indeterminata dai fenomeni e riflettere su questo significa cominciare a capire qualcosa di filosofia della scienza quindi non si può avere una cultura scientifica senza avere anche una cultura storica e filosofica così come è vero l'inverso ora volevo accennare anche visto appunto che questa è la settimana della cultura tecnica che in particolare spesso si nasconde l'importanza dei problemi tecnici diciamo per arrivare a teorie scientifiche teorie scientifiche che poi hanno anche una grossa valenza culturale generale ad esempio volevo fare appunto quando si è scoperto nel diciottesimo secolo che la storia della terra era enormemente più lunga della storia umana cioè all'inizio del settecento si pensava che il mondo risalessero un'età di circa sei mila anni e qualcosa insomma l'età si calcolava sommando l'età in cui i vari patriarchi della bibbia avevano avuto il primo genito insomma e così via perché nella genesis sono scritte tutte quindi facevano la somma si aveva 6200 anni non so qualcosa ecco alla fine del settecento si scopre che l'età della terra va misurata almeno in milioni di anni insomma il che è poco rispetto alle cifre che sappiamo adesso però fa capire comunque che la storia umana era un frammento minuscolo diciamo della storia naturale diciamo del nostro mondo e questo naturalmente ha avuto conseguenze come dire culturali generali molto importanti io mi ricordo un bel libro di Paolo Rossi i segni del tempo penso che sia stato il suo maestro però ecco quello per esempio è un bel libro però dal mio punto di vista è un po' sottovalutato il peso che hanno avuto in questa scoperta i tecnici minerari è proprio il problema diciamo posto dall'esigenza di trovare i modi più efficienti per estrarre i minerali utili che porta a conoscenze minerarie che fanno capire poi i problemi di geologia che portano a identificare l'enorme età della terra quindi esiste un rapporto stretto tra problemi tecnologici e problemi scientifici si possono fare mille altri esempi ma io credo che quasi tutta la scienza esatta diciamo del 600 del 700 intendo il XVII e XVIII secolo sia stata stimolata da problemi nautici dovuti alla navigazione e questo spiega perché la scienza si sviluppa soprattutto in paesi come l'Inghilterra e l'Olanda che sono grosse potenze marinare e si lega poi al ruolo storico che hanno avuto queste oppure non so per fare un altro esempio diciamo la spettroscopia da cui è nata l'astrofisica da una parte e che è stata una delle principali origini poi della meccanica quantistica nasce come problema di analisi chimica insomma un problema tecnico per poter fare un'analisi che rivela diciamo elementi anche in piccole quantità ed è connessa con la seconda rivoluzione industriale con la nascita dell'industria chimica in Germania e quindi separare completamente la scienza da questa base tecnologica diciamo meno ma impedisce di capire diciamo questioni essenziali quindi esiste come dire una una stretta connessione tra le conoscenze scientifiche conoscenze usualmente non considerate scientifiche ecco all'interno di uno di questi due settori di cui si parla cioè della cultura umanistica ecco una volta tradizionalmente per cultura umanistica si intendeva soprattutto cultura classica in Italia ancora in larga misura ha questo senso però sempre più generalizzato l'uso di pensare alla cultura umanistica nel senso delle humanities anglosassoni che hanno un significato molto più vasto largo però anche meno definito insomma allora io volevo accennare anche qual è il ruolo che può avere la cultura classica nel tentativo di sviluppare una cultura generale unitaria insomma e io credo che questo ruolo possa essere importante perché ritornando a quello che dicevo prima sull'importanza di capire l'origine delle teorie scientifiche perché insomma avere una cultura scientifica significa avere qualche idea di come si fa scienza non solo memorizzare i risultati ma capire qual è il metodo per creare teorie scientifiche e l'unica cosa che si può studiare a questo fine è capire come sono state fatte in passato giusto nessuno può sapere come si faranno in futuro insomma e quindi avete qualche idea anche di storia della scienza e beh in questa direzione per molte teorie essenziali per capire come sono nate l'unico modo per farlo è tornare alla civiltà classica facevo prima l'esempio a proposito di quelle che credono alla piattezza della terra diciamo se scoprisse il percorso che da Parmenide arriva Archimede Eratostene insomma e si spiega non solo come si arriva alla sfericità della terra ma si riesce a misurarne il raggio a capire perché deve essere sferica e così via questo è tutto un percorso interno al mondo greco e in questo modo si evitano insomma quelle mostruosità ma anche teorie per esempio come la gravitazione se si vengono studiate solo all'interno della scienza moderna non se ne capisce l'origine non si capisce come si arriva a pensare che i corpi si attirino tutti tra di loro infatti poi si è dato spazio a favolette come quella di Newton che vede cadere la mela e capisce che F è uguale a gamma M' su R'4 e come ha fatto a capirlo perché era un genio quindi quando vede cadere una mela M' su R'4 insomma ora quindi uno dei motivi per cui non si riesce a spiegare la genesi delle idee è perché si tronca una parte dello sviluppo scientifico essenziale che è quella che risale dall'antichità tra l'altro perdere il contatto con la cultura classica sta mettendo in crisi il metodo dimostrativo e matematica e questo mi sembra una cosa molto grave insomma per questo se ne parlava prima noi abbiamo cercato abbiamo fatto un'edizione del primo libro degli elementi di Euclide sperando che potesse essere usato in qualche scuola secondaria insomma ma in Italia ancora si dimostra qualche teorema ma in buona parte del mondo occidentale i teoremi si dimostrano ormai solo nelle scuole di dottorato per matematici insomma quindi ecco quindi l'idea fondamentale diciamo è che esiste una cultura unitaria che non può essere scissa in cultura scientifica cultura umanistica cultura tecnica ma che comprende tutti e tre questi aspetti ora naturalmente per cultura classica e questo poi è uno dei motivi per cui spesso non ci si capisce si deve intendere la vera cultura classica cioè io distinguerei nettamente tra la cultura elaborata nel periodo classico e la cultura oggi diffusa tra i classicisti sono due cose diverse insomma e se si confondono tra di loro non si capisce bene di che cosa si sta parlando insomma ora venendo ai problemi della scuola italiana io penso di essere breve perché magari ci sarà un secondo giro oppure spero che ci sia un po' di dibattito e io credo che si è mosso in due direzioni che a me sembrano contraddittorie diciamo negli ultimi negli ultimi decenni cioè da una parte si sono allungati i percorsi scolastici diciamo e per molte attività per le quali una volta era richiesto un diploma a volte anche un diploma di durata minore di quella di durata del liceo per esempio si diventava maestri dopo quattro anni di istituto magistrale dopo le scuole medie beh oggi è richiesta la laurea specialistica per molte di queste professioni insomma ci vuole la laurea per diventare infermieri ci vuole la laurea per diventare maestro e così via e questa è una direzione probabilmente giusta importante perché migliora la preparazione diciamo di questi però poi l'altra direzione è quella di specializzare sempre di più le scuole secondarie insomma invece di avere un liceo adesso se ne sono una decina insomma si stanno conto dei vari indirizzi ora queste cose a me sembrano sostanzialmente contraddittorie perché una scuola secondaria specialistica ha senso solo se deve essere professionalizzante ma se per la professionalità abbiamo bisogno di una laurea specialistica allora questa persona che dovrà poi prendere una laurea specialistica per diventare maestro infermiere o qualunque altra cosa cosa deve fare nella scuola secondaria secondo me dovrebbe acquisire una cultura generale polivalente dovrebbe essere formato nel modo migliore possibile insomma se uno vuole diventare un esperto di biotecnologie insomma per questo dovrà fare una laurea quinquennale più un dottorato non è necessario che faccia un liceo biotecnologico insomma dovrebbe fare un liceo che assicura una formazione generale e invece tra i vari indirizzi di licei quello che manca mi sembra sono dei licei che si pongono l'obiettivo della formazione generale non specialistica non so se sono stato chiaro e in questa direzione secondo me dovrebbe avere potrebbe avere un peso notevole anche la cultura classica ecco il liceo che si avvicina di più oggi è il liceo classico in questa direzione però si avvicina solo parzialmente perché il liceo classico oggi è un liceo femminilizzato innanzitutto più del 70% degli studenti sono ragazze frequentato spesso da chi ha in antipatia la matematica e le scienze e pensa di continuare studi letterari all'università quindi viene visto in una certa misura già come un indirizzo specialistico rivolto ai futuri classicisti e in questo senso è molto lontano dall'idea di una scuola che di una formazione generale polivalente come dicevo io io mi fermerei qui insomma scusate ho fatto un intervento breve però spero di avere posto alcune questioni su cui spero di poter tornare grazie professore passiamo la parola al professor Ciardi ho detto visto che il festival della cultura tecnica usiamo un powerpoint intanto è già qualcosa due brevi considerazioni preliminari per me questa insomma ringrazio di organizzazione per l'iniziativa perché io interpreto appunto come un incontro adesso vi dirò alcune cose ma insomma le ho pensate come elemento di discussione con tutti voi che sicuramente di scuola ne sapete molto più di noi anche se appunto mia moglie è un insegnante ho due figli uno di 21 uno di 14 ho amici che fanno i dirigenti scolastici anch'io ho lavorato nella scuola quindi qualcosa cerco sempre di seguire e fin da quando lavoro all'università non ho mai pensato che il mio lavoro specialistico universitario dovesse essere disgiunto da da quello che comunque è un compito ritengo primario cioè il rapporto tra università scuola tra tutti i comparti dell'istruzione altrimenti non riusciamo in nessun modo a risolvere i problemi l'altro è che appunto ringrazio Lucio Russo per questi spunti relativi alla storia della scienza insomma perché io insegno storia della scienza all'università di Bologna ormai da tanti anni e sono convinto che senza appunto eccedere negli specialismi che poi riguardano anche la mia la mia disciplina come tutte le discipline perché il problema dello specialismo non è solo un problema che c'è in ambito scientifico c'è anche in ambito umanistico per cui questo non va mai dimenticato naturalmente soprattutto nella scuola secondaria presentare presentare la scienza anche da un punto di vista storico credo che sia una cosa utile potrebbe essere una cosa utile e importante naturalmente qui stiamo facendo delle riflessioni molto molto generali a punto di vista teorico quindi intanto diamo per scontato anche nel mio discorso quello a cui ha già accennato luce russo e diamo anche per scontato tutti i problemi che voi affrontate quotidianamente tutti i giorni sia come docenti o come studenti in relazione a come sono fatti i programmi le ore di insegnamento quindi è un discorso molto complesso su cui magari possiamo ritornare in sede di discussione naturalmente cultura scientifica e cultura umanistica è una falsa contrapposizione e sono d'accordo che appunto affrontando la questione da un punto di vista storico poi come ci ha ricordato adesso luce russo diventa difficile fare una storia della scienza non passando attraverso la storia della filosofia o la storia della letteratura o la storia dell'arte questo naturalmente non è poi non si traduce in maniera così semplice in un'attrazione in un programma scolastico prima di tutto perché i programmi non prevenono questo ma anche perché poi non necessariamente ad esempio tutti i docenti di storia e filosofia sono convinti che questo sia un approccio giusto e corretto nel senso che poi anche nella tradizione storico-filosofica ci sono approcci che non guardano di buon occhio la scienza così come appunto ci sono noi diciamo oggi si usa il termine scientista insomma per definire colui che vede la risoluzione di ogni problema nell'avanzamento della scienza e della tecnica e quindi io invece dei classici vi cito Harry Potter preferisco da questo punto di vista nel senso che queste sono le mie inclinazioni personali insomma ci sono anche alcuni studenti ora mi spiace non ho portato né troppi fumetti troppi manga anche per dialogare meglio su alcune questioni però ho detto potrei finire con questa slide cioè questo è un articolo delle scienze in cui si imparla dell'importanza non solo della lettura di Harry Potter ma diciamo della letteratura fantasy se legge i libri della Rowling può avere un impatto positivo non solo sullo sviluppo della personalità ma anche dell'empatia eccetera uno studio di ricercatori italiani conferma l'importanza di alcuni libri in particolare quelli fantasy naturalmente questo non vuol dire che i risultati di queste ricerche siano attendibili ma mi interessa come spunto per parlarvi ad esempio di una di una polemica che ogni tanto ritorna fuori ad esempio anche recentemente sui Corriere della Sera nel mese di giugno mi sembra insomma Edoardo Boncinelli ha pubblicato un articolo che hanno titolato Contro il fantasy e l'argomentazione era quella sostenuta una decina d'anni fa anche da Pier Giorgio Di Freddi ad esempio che appunto leggere troppi libri fantasy leggere troppo Harry Potter o Il Signore degli Anelli farebbe male alla razionalità e non permetterebbe agli studenti di sviluppare una mentalità di tipo scientifico e per questo andrebbero male in matematica quindi non si capisce poi come i finlandesi o i giapponesi vadano bene in matematica leggendo tanto Harry Potter queste ecco sono le contrapposizioni secondo me che sono sbagliate e non andrebbero poste in questi termini perché altrimenti si rischia si rischia come dire appunto di continuare a proporre anche a un livello di persone che hanno una responsabilità dei temi che prima di tutto non esistono dal punto di vista storico non si sono mai verificati e poi perché non trovano un riscontro nei fatti ecco non trovano un riscontro nei fatti quindi la contrapposizione immaginazione e razionalità è una contrapposizione sbagliata se diciamo dietro questa contrapposizione ci vogliamo vedere anche una contrapposizione posso fare una brevissima interruzione volevo ricordare che Odifreddi diceva che non bisognava leggere nemmeno Leopardi si va bene ora non volevo diciamo come dire mi bastava fare un esempio ecco ma il punto è che se dietro questa contrapposizione ci deve essere anche una contrapposizione cultura umanistica o classe cultura scientifica si fa un danno ancora maggiore ed è il messaggio che però poi poi passa c'è un messaggio ha scritto di freddi già scusate insegna Bologna dai 2000 ma sono fiorentino e questa cosa della battuta a me un po' rimane quindi prendiamo ad esempio un caso che è facile è semplice Galileo Galilei ci permetterebbe di sviluppare un programma che va dal recupero della cultura classica a cui ha accennato adesso Lucio Russo a come è stato detto all'inizio al sapere e al saper fare perché la scienza moderna non nasce se non in relazione allo sviluppo della tecnologia perché scienza e tecnologia scienza e tecnica sono strettamente legate senza il cannocchiale non si fa una rivoluzione e quindi questo aspetto non va mai non va mai dimenticato però a me preme sottolineare un'altra cosa quando parlo di Galileo e cioè che Galileo sarebbe stato il primo a sottoscrivere l'articolo delle scienze e oggi come mi piace sempre fare dire in maniera provocatoria sarebbe uno dei primi grandi fan di Harry Potter sicuramente o dei signori degli anelli senza ora volere accostare e fare accostamenti troppo arditi però insomma lo rando furioso Ariosto bisogna sempre ricordarsi che è stata la sua probabilmente le sue letture preferite erano tante ma insomma l'Ariosto era una delle sue letture preferite tra l'altro quando noi leggiamo un testo scientifico del 600 dobbiamo ricordarci non stiamo leggendo un articolo di tre pagine su Nature cioè vuol dire i testi di Galileo sono pieni di riferimenti letterari di citazioni relativi alla Bibbia o cose di questo tipo ovviamente tutte queste cose non si possono poi fare quando si spiega la meccanica o le leggi del moto questo è evidente però ricordare ad esempio che Galileo riteneva l'Ariosto il poeta per eccellenza perché era quello che maggiormente utilizzava la fantasia rispetto ad esempio al Tasso che lui non aveva molto perché poi ha fatto anche un po' il critico letterario e che il fatto di Galileo di ribadire che quando si fa poesia la cosa meno importante è che quello che si scrive sia vero queste sono parole sue ci deve appunto far capire quanto il rapporto cultura quella che noi oggi chiamiamo cultura umanistica cultura scientifica è inesistente in quello che è il padre della scienza moderna dal punto di vista dei valori del metodo e di tante cose che poi insomma ora ovviamente questo serve un altro capitolo insomma a parlare di quando noi parliamo di metodo scientifico esattamente cosa intendiamo così come Galileo è stato un ottimo musicista suonatore di viuto questa ovviamente è una pratica appresa dal padre Vincenzio Galilei che è stato un famoso musicista teorico della musica del periodo e come ci raccontano i biografi ovviamente lui da giovane avrebbe voluto fare il pittore insomma aveva amici pittori però questa abilità poi gli è rimasta quando ha dovuto ad esempio disegnare la luna quando ha dovuto vedere la luna quindi i disegni originali di Galileo erano anche una capacità descrittiva ma questi sono solo spunti esempi per discutere su una questione importante cioè che quando noi andiamo a prendere i grandi autori sia in campo scientifico che in campo umanistico non si pongono assolutamente la questione del rapporto tra cultura umanistica e scientifica perché sanno interpretare benissimo quello che è il discorso da fare saltando di molti secoli questa è la citazione di un premio Nobel per la chimica che dice che è importante coltivare la passione e non meno dell'intelligenza poiché questa senza quella è priva di valore la scienza è un'avventura e ogni scienziato dovrebbe studiare non solo ciò che gli interessa ma ampliare la sfera delle varie discipline essa è come un'arte e in conformità con ogni attività creativa ha bisogno di immaginazione quindi questa cosa non la dice l'umanista l'amante di cultura quindi qui qui appunto infatti oggi il paradosso non è che luce russo diciamo è di formazione scientifica e parla di cultura classica io invece sono di formazione umanistica e vi parlo di scienza e cose di questo tipo solo che come abbiamo sentito questa idea c'è un problema che questa idea poi alla fine non riesce non riesce a passare insomma nella comunicazione noi facciamo anche a partire della scuola della scienza questo si sta parlando ovviamente sui grandi numeri la scienza che viene insegnata è detto in modo autoritario dove non si riesce a capire il problema che c'è dietro perché poi l'altra questione è hai parlato di formazione generale insomma dal punto di vista della scuola liceale perché questo è uno dei punti chiave insomma su cui ora poi tornerò brevemente nel corso dell'esposizione cioè il punto è con quale immagine della scienza ma anche delle lettere e di tutto il sapere vogliamo che con quale immagine vogliamo che gli studenti escano dalle scuole secondarie superiori sia quelli del classico sia degli istituti professionali perché il problema è che se io interrogo e lo faccio costantemente i miei studenti diciamo dei corsi di laurea in filosofia in storia in antropologia tutti quelli per il corso umanistico poi anche degli studenti vengono dalle facoltà scientifiche ma è ancora un'altra questione e veramente gli chiedo nozioni elementari che tutti dovrebbero sapere di dati scientifici vi vedo sono abbastanza persi ora non parliamo del secondo principio della termodinamica perché quindi c'è un problema nel senso che se non riescono a diciamo e molti vengono anche perché c'è quest'idea che io vado a fare filosofia perché così non faccio matematica insomma poi aggiungiamo anche questo se diciamo non gli resta un bagaglio di conoscenze che poi possono sempre formarsi insomma perché insomma anche in Italia non siamo appunto sì in Italia i dati sul sole erano anche nel 2015 2016 c'era circa a livello italiano noi studenti c'era circa un 40% di persone che rispondevano alla domanda il sole è una stella un pianeta rispondevano un pianeta circa il 40% ma questa era una domanda facile poi ci sono quelle più complicate quindi quando uno studente non andrà in una facoltà scientifica ma diventerà un letterato un avvocato un informatico quale immagine della scienza quali valori della scienza moderna ha bisogno che gli restino come patrimonio come patrimonio di conoscenze di cultura in maniera tale poi da 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 prendere delle scelte consapevoli quando c'è da decidere su problematiche tipo i vaccini o altre questioni di questo genere tutto questo discorso come è già stato detto però vale anche in senso inverso cioè diciamo che in una battuta molto semplice io insegnerei più scienza in modo umanistico cioè e più lettere in maniera scientifica nel senso che Leopardi ma perché è un caso semplice ne possiamo fare ne possiamo fare infiniti però ovviamente come si fa a capire il pensiero anche la poesia e tutto Leopardi se non si ricorda o non si spiega quanta scienza c'è dietro il pensiero di Leopardi ma questo vale per quest'autore che è famoso e quindi è un problema è un problema diciamo che magari si risolve facilmente ma è una questione è una questione generale insomma i giovani Leopardi lo sappiamo metà della sua formazione è una formazione di tipo di tipo scientifico che lo porta a prima di tutto avere una idea chiara di che cos'è la scienza che si riflette poi anche nella nella sua opera e avere chiari rapporti ad esempio tra scienza e letteratura scienza e immaginazione così come magari questo può risultare forse un po' più anche per gli studenti risulta effettivamente diciamo se gli studenti conoscono Coleridge e magari hanno letto ballate il vecchio marinaio vi sorprende di più sapere che Coleridge si è formato su anche testi filosofici scientifici che è l'amico di chimici che dentro la ballata del vecchio marinaio c'è molta scienza e quindi questo manifesto della poesia romantica inglese va visto in un certo tipo di contesto anche gli umanisti quelli che noi chiamiamo appartenenti alla cultura umanistica in realtà sono dentro tutto questo discorso proprio perché come ci ha ricordato Lucio Russo il percorso tra storia della cultura filosofica scientifica e letteraria non prevede quelle distinzioni a cui noi poi siamo arrivati oggi ovviamente Frankenstein è un discorso più semplice perché alcuni autori lo considerano anche ovviamente forse il primo romanzo di science fiction di fantascienza però insomma i rapporti tra questi romantici e la scienza è molto più stretto forte e importante di quello che si potrebbe pensare quindi noi sappiamo ovviamente che tutto questo è vero ma sappiamo anche che poi dal settecento in poi che la specializzazione delle scienze sostanzialmente e di tutte le discipline non solo le scienze la specializzazione del sapere avviene in ambito ottocentesco quindi io rubo sempre questa affermazione a Vincenzo Balzani anche così per ricordare il nostro mancato Nobel per la chimica l'anno scorso però questo è un qualcosa che vale anche per i saperi umanistici per le discipline umanistiche che si coltivano all'università cioè un tempo gli scienziati sapevano quasi niente di quasi tutto quindi ovviamente c'era una cultura più diffusa però il raggio di azione era minore il seguito è che oggi sanno quasi tutto di quasi niente perché c'è sempre più specializzazione si va sempre più nel dettaglio ripeto questo vale anche nell'ambito umanistico ci sono specialisti di pezzi dell'opera di Galileo che però magari poi fanno fatica a formulare un giudizio complessivo sull'opera di Galileo può succedere o la sto esagerando però può succedere anche può succedere anche questo così come in ambito filosofico da una parte la specializzazione è inevitabile è necessaria però è un po' come il sapere il saper fare cioè non dobbiamo scordarci che dietro a una specializzazione necessaria c'è sempre un aspetto di conoscenza globale compressiva che va mantenuto e che se viene perduto poi può diventare un problema perché la nostra capacità di giudizio come avrebbe detto Kant viene a mancare a proposito di Kant mi viene in mente che colui che ha portato la filosofia tedesca di fine settecento in Inghilterra è stato proprio Coleridge e Kant era uno dei filosofi preferiti di Coleridge quindi gli agganci sono infiniti così come ad esempio prima è stato ricordato Newton e quindi non posso ovviamente dimenticare di ricordarvi che sarebbe anche simpatico ogni tanto far vedere questo padre della gravitazione universale che per tutta la sua carriera si occupa di alchimia o di interpretazioni e profezie bibliche perché anche questo è Newton solo che noi poi ci siamo dimenticati il Newton storico e l'abbiamo messo dentro la specializzazione prendendo il pezzo di verità che è rimasto giustamente quindi già e qui ripeto qui non è non è responsabilità di docenti di insegnanti di studenti cioè noi in certi casi abbiamo un'impostazione dei programmi scolastici che risale ancora alla fine dell'ottocento per certe questioni voglio dire poi altre sono migliorate però in generale noi anche negli ultimi anni abbiamo parlato molto di scuola di riforme di buona o cattiva scuola come vi pare però quello di cui non si discute mai sono i contenuti sono i programmi cioè secondo me sarebbe venuto il momento e sarebbe il momento forse anche di ritrovarsi e prendere qualche iniziativa a livello pubblico per discutere del fatto che tutto che sappiamo e abbiamo detto finora è ovviamente giusto e corretto però poi lo dobbiamo applicare non solo a un modo di pensare la scuola che è quello io vado bene a scienze no io vado bene a italiano mi piace la matematica oppure no tenendo presente che poi gli studenti come è stato fatto presente prima perché tutti i discorsi nostri sono complementari ha tutto il tempo poi di specializzarsi infatti oggi per esempio a filosofia sono in aumento gli iscritti dalle scuole professionali perché come diceva Lucio Russo gli studenti bravi vanno in altre facoltà alla fine perché c'è tutto un problema di attrattività di cosa si va della professione cioè è sempre stato ma oggi è un po' più accentuata questa questione e poi naturalmente tenendo presente che il mondo è cambiato e quindi sono veri i discorsi che abbiamo fatto fino adesso adesso ci arrivo un attimo in conclusione cinque minuti e concludo oggi ci siamo accorti ci sono le fake news le notizie false va bene come se non ci fosse mai stato questo tipo di problema però è vero che è cambiato il modo di trasmissione di comunicazione cioè internet cambia molto il modo di una una trasmissione di una notizia falsa o di elaborazione quindi di questo bisogna tenerne conto cioè bisogna tenere conto ad esempio che noi siamo nel periodo in cui abbiamo il maggior numero di informazioni a disposizione della storia dell'umanità perché appunto in questi giorni ad esempio ma per fare degli esempi personali ho scritto un articolo di storia della chimica nell'ottocento che non lo dite agli organizzatori del convegno ma ho fatto in due giorni un tempo mi ci sarebbero voluti due mesi ma perché? perché in rete ho trovato tutti i testi anche degli autori minori già pronti scannerizzati nelle biblioteche online quindi una rapidità il problema è che so dove andare a cercare le informazioni ma mettiamoci nei panni di uno studente che non ha formazione capacità critica idea di cosa sia la scienza rapporti tra scienza e letteratura scienza e fantasia eccetera eccetera e va in rete a cercarsi le informazioni infatti noi sappiamo che ormai in rete si va solo a cercare le informazioni che confermano le convinzioni che già abbiamo abbiamo linea di massima è così allora perché Carl Sagan il nostro grande divulgatore astrofisico del novecento perché lui amava ripetere che più che un complesso di conoscenze la scienza è un modo di pensare quindi io penso che non sto dicendo che non dobbiamo più insegnare la fisica la chimica così come non sto più dicendo che non bisogna studiare Dante e bisogna leggere anche se a volte bisognerebbe venire un po' più cioè bisognerebbe capire un po' più i tempi che stanno cambiando e quindi non è detto che siccome a me piaceva Mozart il rap non sia proprio una forma musicale o cose di questo genere cioè bisogna sempre un po' capire dove siamo stati noi e dove vanno dove vanno le cose Coleridge stesso nelle sue riflessioni da filosofo e anche sulla scienza ci ricordava ad esempio queste banalità tipo è poesia quel tipo è componimento e si contrappone ad un'opera scientifica per avere come obiettivo immediato il conseguimento del piacere e non della verità intanto noi però abbiamo già il problema di stabilire che cos'è la verità e questo non è un problema solo degli studenti è un problema che abbiamo tutti perché io conosco addirittura chimici che si curano con l'omeopatia ora non vorrei lanciare delle cose troppo provocatorie cioè c'è talmente tanto specialismo che può capitare che un fisico teorico poi prenda degli abbagli che l'amorosi e si faccia affascinare da un libro in cui si parla che le piramidi egizie sono state costruite dagli extraterrestri perché perché il suo specialismo riesce a padroneggiare tutto e poi non riesce a fare il salto il salto il pre quindi due o tre cose per concludere se il nostro modello di istruzione funzionasse tanto bene e questo sono d'accordo con quello è stato detto prima noi abbiamo nostri problemi specifici relativi alla situazione italiana ma è un problema occidentale perché altrimenti non possiamo spiegarci come mai gli Stati Uniti che hanno le migliori università al mondo e sono hanno le punte di eccellenza in tutti i canali di ricerca possibili e immaginabili hanno anche il 50% della popolazione che crede ancora a cosa diceva forse magari non tutti ai 6.000 anni qualcuno passa il disegno intelligente però hanno un atteggiamento un filino creazionista o comunque hanno dei dubbi sulla teoria dell'evoluzione quindi questi sono gli Stati Uniti in America quindi vuol dire c'è qualcosa che non va più tra la cultura generale tra ciò che è scienza ciò che è letteratura quali sono le basi di fondo e quello poi a livello specialistico oppure non avremmo proposte appunto di proiettare film al Senato sui vaccini in cui si parla di legame con l'autismo cose di questo tipo perciò oggi in questo anch'io vedi ho ricordato non siamo mai andati sulla luna questi non sono propri terrapiattisti ma l'ho messa questa cosa di non siamo mai andati sulla luna per farvi capire per esempio questa è una delle tante chiamiamole così bufale che è una cosa diversa dalla pseudoscienza che nasce prima dell'era di internet nasce negli anni successivi alla missione Apollo quindi questo tipo di questione c'è sempre stata e che oggi aumenta la velocità e soprattutto queste notizie circolano su strumenti che voglio dire anche i ragazzi della mia generazione non avevano comunque si andava al cinema c'era il teatro cioè non c'era internet non c'erano questi mezzi così veloci non c'era facebook che sono i mezzi che i ragazzi consultano tutti i giorni per farsi informazione o acquisire cultura oltre alla scuola quindi è molto più complicato poi magari parliamo di wikipedia se c'è se c'è spazio dopo perché quella è un'altra questione molto più interessante magari di quello che si potrebbe potrebbe pensare quindi mi fermo qua per adesso e vi ringrazio poi discutiamo dopo grazie a tutti grazie al professor grazie a tutti i giorni che conosco provo anche io a dare un contributo a questa discussione cominciando dal titolo cultura scientifica e cultura umanistica a scuola una falsa contrapposizione è chiaro che è un titolo un sottotitolo programmatico come dire che pone una domanda retorica siamo d'accordo credo tutti almeno da questa parte del tavolo ma credo spero anche dall'altra parte che come è stato detto abbondantemente dimostrato fino a questo momento questa contrapposizione è falsa dal punto di vista di principio è dannosa dal punto di vista pratico e come dire ci riconduce all'esigenza di una formazione delle nuove generazioni giocata prevalentemente sulla su una cultura generale su una cultura condivisa sullo sviluppo delle capacità critiche che mettono insieme e qui esempi sono stati fatti in abbondanza appunto la cosiddetta cultura umanistica e quella scientifica come componenti di un'unica cultura e come diciamo percorsi che hanno molti punti in comune molti punti di sovrapposizione d'accordo però a questo punto sorgono alcuni problemi soprattutto dal punto di vista della scuola ma non solo della scuola per esempio come si fa a fare tutto? Come si fa a sommare? Cioè possiamo risolvere questo problema sommando? Evidentemente no dobbiamo selezionare ma come selezionare? Secondo problema è vero è vero dobbiamo per esempio proporre una didattica della scienza che incorpore in sé aspetti della storia della scienza relazioni con la filosofia e così via con la tecnologia e così via adesso qui è stato fatto l'esempio molto di chimica oggi io caso vuole ma non ci avevamo parlati prima caso vuole che io sia in origine un insegnante di chimica e devo dire che ho provato a fare cercavo di fare la chimica nel modo che poi dopo dirò ecco io ho un'idea un po' diversa con la mia esperienza un po' diversa da questa cioè diciamo che non solo io ma molti colleghi diciamo che prevalentemente da qualche decennio la chimica si fa proprio in quel modo lì cioè a partire da esperienze di laboratorio che dal toccare con mano appunto la differenza fra un miscuglio e un composto si giunge poi a in via induttiva a introdurre diciamo teorie e stiamo in tutti i corsi di formazione che facciamo con i docenti spieghiamo che si deve fare così anzi sempre più fare così addirittura fare emergere dagli studenti possibili teorie alternative per spiegare le osservazioni e soltanto a valle selezionare quelle che appaiono di successo diciamo o comunque suscettibili di una verifica ecco prego c'è l'idea che genere non si faccia così mi è venuto dalla conoscenza dei miei studenti all'università cioè provando a chiedere a loro insomma cosa era una sostanza cosa era una molecola l'ho fatto sei o sette volte la risposta è stata sempre in un'altra direzione evidentemente la scuola italiana in particolare è molto variegata sul termine quindi può essere benissimo che sia no ma volevo dire un'altra cosa volevo dire che quando si impostano le cose così e va benissimo c'è sempre quello studente che sbuffando dice ma sono andato a vedere su internet e la soluzione è la teoria atomica gli atomi le molecole ti snocciola il sistema periodico eccetera cioè abbiamo un problema in più rispetto al passato e cioè l'estrema facilità di avere informazioni in tempo reale le più le più varie come facciamo a perseguire a mantenere un filtro di tipo razionale di tipo anche costruttivista dal punto di vista pedagogico in presenza di una condizione di contesto di questo tipo e sono problemi piuttosto complicati e io non ho certamente da suggerire soluzioni che siano risolutive voglio dire dico questo però per dire che effettivamente il tema della contrapposizione tra cultura scientifica e cultura umanistica nella scuola come residuo dell'influenza gentiliana e crociana probabilmente esiste ancora qualche traccia c'è per esempio nella articolazione degli istituti superiori e nella percezione che l'opinione pubblica ne ha però probabilmente non è non dico che sia superato ma non è questo o solo questo il problema principale che abbiamo di fronte perché si intreccia con gli altri problemi di cui ho parlato prima allora io ho provato a profondire un pochino questi aspetti questi temi sostanzialmente facendo una rapida ancora più rapida perché vedo che qui ci sono addetti ai lavori che sarebbero annoiati da questo però serve credo una rapida disamina sugli ordinamenti più recenti ma poi un confronto con quello che accade effettivamente nella scuola e poi una qualche mia proprio modesta e personale proposta modesta proposta appunto per fare una citazione ecco non così crudele non così crudele non così crudele certo come ancora di Suizzi allora perché secondo me è utile fare un rapido escursus degli ordinamenti di cosa circolano gli ordinamenti questo proprio perché io sono molto d'accordo con le cose è cambiato l'interlocutore il professore il professore Ciardi prima a proposito del fatto che probabilmente nei decenni passati è stato dedicato dal legislatore dall'autorità politica un tempo e un'energia forse eccessiva nel disegnare ridisegnare cambiare distruggere ricostruire architetture del sistema e forse poco è stato dedicato a tentare di dare una risposta appunto alla domanda fondamentale che cosa ci aspettiamo dalla scuola in termini di conoscenze abilità e competenze da diciamo costruire con gli studenti che percorrono il nostro sistema è vero e io auspico che i prossimi anni siano dedicati appunto a questo questo credo sia un'aspirazione largamente condivisa nel mondo della scuola cioè auspichiamo che non ci siano ulteriori diciamo che qualcuno abbia la tentazione di mettere ulteriormente mano immediatamente sull'architettura anche se delle cose sarebbero discutibili ma insomma adesso il problema principale è approfondire naturalmente non in termini top down ma in termini bottom up in termini di chiamata diciamo così del sistema e in particolare dei docenti dei dirigenti scolastici degli studenti ma io direi del mondo accademico noi abbiamo un grande bisogno un grande bisogno che il mondo accademico il mondo universitario ci aiuti a risolvere a rispondere a questa domanda cioè che cosa su che cosa dobbiamo concentrarsi ci concentrarci visto che non possiamo fare tutto come ottenere appunto un approccio che sia in grado di fornire gli strumenti agli studenti per muoversi in un contesto complesso e sempre più complesso come il mondo di oggi e del futuro e così via e qui credo che ci siano dei problemi a risolvere dirò qualcosa appunto alla fine nella fase delle modeste proposte però non sarebbe del tutto esatto dire che non ci si è posti questo problema dal punto di vista del governo del sistema nei decenni passati e nelle varie riforme che abbiamo avuto per esempio l'idea che si debba passare l'idea che si debbia in tutti gli ordini di scuola lavorare su una didattica partecipativa laboratoriale attiva si è sposato sostanzialmente il paradigma costruttivista insomma l'idea dello scaffolding del fatto che lo studente non è un recipiente da riempire di conoscenze ma è piuttosto appunto un soggetto nel quale accendere un fuoco appunto un desiderio di conoscenza e che va accompagnato a scoprire da solo e a padroneggiare via via conoscenze e competenze si è introdotta questa 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 categoria delle competenze forse che è diventata forse anche una moda ma che sostanzialmente però tendeva a e tende a proporre l'idea che le conoscenze debbano essere certamente non ridotte e abbandonate ma devono essere inverate devono essere radicate in contesti reali o virtuali ma in contesti che sono come dire di lavoro di studio di esperienza personale e così via qualcosa di più vicino alla vita diciamo così ora tutto questo lo troviamo nell'elaborazione di questi anni l'idea che appunto dobbiamo fare i conti con la complessità con l'incertezza con la globalità insomma queste idee che risalgono soprattutto a Moren hanno fatto breccia almeno nei documenti almeno nei testi almeno nei corsi di aggiornamento ecco poi dirò nella pratica per esempio le indicazioni per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo del 2012 hanno un capitolo specifico che si chiama per un nuovo umanesimo dove si dice tra l'altro le relazioni fra il microcosmo personale e il macrocosmo dell'umanità e del pianeta oggi devono essere intese in duplice senso da un lato tutto ciò che accade nel mondo influenza la vita di ogni persona dall'altro ogni persona tiene nelle sue stesse mani una responsabilità unica e singolare in confronto del futuro dell'umanità la scuola può e deve educare questa consapevolezza e questa responsabilità i bambini e gli adolescenti in tutte le fasi della loro formazione a questo scopo il bisogno di conoscenza degli studenti non si soddisfa un semplice accumulo di tante informazioni in vari campi ma solo con il pieno dominio dei singoli ambiti disciplinari e contemporaneamente con l'elaborazione delle loro molteplici connessioni e qui siamo appunto già al nocciolo della questione perché il nocciolo della questione dal punto di vista della scuola è il rapporto fra le singole discipline e la formazione globale e qui naturalmente si sottolinea il fatto che le singole discipline non vanno ovviamente neglette ma devono contribuire a una formazione globale tradotta in competenze e in competenze che sono poi definite soprattutto nel testo del nuovo obbligo nuovo allora ma insomma siamo nel 2010 nuovo obbligo di istruzione sono declinate nelle competenze di cittadinanza nelle famose otto competenze di cittadinanza che non hanno una declinazione disciplinare ma che per le quali convergono tutte le discipline le varie discipline e che propone anche un assetto organizzativo che cerca di tenere conto di questo quello famoso degli assi culturali cioè l'idea di un'aggregazione delle discipline almeno per grandi assi culturali in modo da costruire anche organizzativamente questa almeno era l'intenzione come dire spazi di interconnessione di sovrapposizione di scambio di cooperazione tra discipline almeno quelle che appartengono ad uno stesso asse è chiaro che questa idea non esaurisce le possibili interrelazioni tra le discipline per esempio è chiaro che anche tra l'asse dei linguaggi e l'asse matematico ci sono delle interrelazioni ci sono interrelazioni tra l'asse storico e l'asse scientifico tecnologico e così via ma intanto insomma questo è stato un punto credo di passaggio importante però devo dire poi dirò che cosa nella pratica secondo me sta in realtà succedendo ma insomma questa è l'impostazione che è stata proposta e che credo sia un passo in avanti in quella direzione anche per quanto riguarda l'assetto della scuola secondaria di secondo grado i decreti del 2010 almeno per quanto riguarda gli istituti tecnici e gli istituti professionali poi quello di studi professionali è stato superato da quest'ultimo decreto legislativo delegato della legge 107 almeno per gli istituti tecnici l'idea del fatto che esista una dialettica tra singole discipline e formazione generale è abbastanza forte l'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire le giorni operazioni di base acquisite attraverso il rafforzamento e il sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l'obbligo di istruzione assi dei linguaggi matematico eccetera le aree di indirizzo hanno l'obiettivo di fare acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche applicative spendibili in vari contesti di vita di studio di lavoro sia abilità cognitive idonee a risolvere problemi sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati di innovazioni continue e assumere progressivamente anche responsabilità eccetera per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti quindi le discipline vengono mantenute ma si propone sostanzialmente un contesto nel quale si supera l'orizzonte squisitamente disciplinare perché ho detto che la cosa non è esattamente così nei licei perché il decreto invece dei licei e le conseguenti indicazioni sostanzialmente mantiene una forte connotazione disciplinarista anche in termini come dire di documento non a caso uno dei primi obiettivi che si propone nel profilo del liceo e quella dei licei e quella di ottenere diciamo il massimo della preparazione nel campo di ciascuna disciplina ovviamente si fa riferimento anche alle interrelazioni fra le discipline ma lo si come dire attribuisce lo si lo si attribuisce certo alla iniziativa dei singoli docenti delle scuole e degli studenti il nuovo ordinamento degli istituti professionali quello appunto del decreto legislativo appena uscito fa un passo ulteriore nel senso che sostanzialmente fa i quadri orari non in modo disciplinare bensì in modo declinandoli in assi culturali e in alpie aree di indirizzo e quindi in questo modo si propone ovviamente un tema di integrazione tra le discipline infine l'ultimo punto che voglio citare è quello dell'ordinamento dell'istruzione degli adulti che è un punto di riferimento interessante secondo me anche di carattere generale il DPR 263 del 2012 perché lì stiamo parlando di un percorso che si articola non in annualità ma in livelli e periodi e in cui c'è una personalizzazione spinta del percorso formativo fino a stabilire dei patti formativi individuali che comportano anche riconoscimento di crediti provenienti da contesti di formazione di istruzione non formale o informale cioè al di fuori dei canali tradizionali quindi riconoscendo anche le esperienze di lavoro e di vita un contenuto è un aspetto diciamo formativo da concretamente riconoscere ora quindi diciamo l'evoluzione degli ordinamenti non è del tutto sorda a queste esigenze che abbiamo posto ci sono questi stimoli importanti io credo che cosa accade però realmente accade che queste innovazioni hanno introdotto sicuramente dei meccanismi di cambiamento diciamo che c'è in corso nella scuola processi di non tanto di adeguamento ma di interpretazione di padronanza di queste innovazioni e ci sono esperienze molto interessanti in questo senso in tutti gli ordini di scuola ma dobbiamo dire che ancora c'è molto da fare ci sono dei fenomeni anche come dire in controtendenza ci sono molte resistenze molte difficoltà anche per esempio nel caso della scuola del primo ciclo è invalso il sistema della programmazione didattica attraverso il curriculum verticale benissimo cioè che comprende dall'infanzia fino alla scuola secondaria di primo grado io ho avuto per altri motivi l'avventura di consultare molti in questi mesi molti curricoli verticali di molte scuole del primo ciclo di molti istituti comprensivi e in quasi tutti i casi stiamo parlando di curricoli verticali di tipo disciplinare o di area disciplinare poche volte ci si pone il problema di come raggiungere le competenze trasversali attraverso il contributo per non parlare della scuola secondaria dove onestamente gli sforzi che si fanno le tendenze positive che sono in corso l'impegno di tanti docenti tuttavia come dire per ora non ha costituito non costituisce il panorama prevalente lo si capisce lo si desume da esperienze varie che possiamo fare compresa quella che noi ispettori facciamo quando assistiamo agli esami di stato agli esami di stato della secondaria e del secondo grado dove al colloquio in particolare vediamo inevitabilmente che quasi sempre si tratta di una sequenza di interrogazioni disciplinari mentre invece dovrebbe essere il momento in cui lo studente dovrebbe essere stimolato ad affrontare argomenti intere pluridisciplinari mettere in luce la capacità appunto di critica di stabilire connessioni e così via è così è chiaro che non si può pensare che un percorso che è stato in qualche modo a canne d'organo fin lì poi improvvisamente diventi interdisciplinare in quel momento bisogna fare un'operazione di retorazione speriamo che il nuovo esame di Stato per esempio che prevede una seconda prova che può essere anche multidisciplinare e possa dare un contributo in questo senso ci sono comunque cose che effettivamente fanno pensare per esempio pensiamo allo psicodramma di questi ultimi anni che ci starà immagino anche quest'anno sul fatto se la seconda prova nel geoscientifico debba essere matematica o fisica perché il fatto che per la prima volta dovesse essere l'anno scorso sembrava fisica aveva messo in grave e allora non dovrebbe essere così ora ma ci sono altri aspetti che ci propongono delle domande per esempio gli esiti delle indagini Ocsepisa e dell'invalsi per esempio il fatto che sul terreno della conoscenza scientifica e matematica abbiamo appunto molto da migliorare e abbiamo questo dato complessivo di una opinione pubblica abbastanza come dire permeabile appunto a pseudoscienza e così via allora come facciamo a affrontare questi problemi perché succede questo nonostante la buona volontà di tutti e anche indicazioni ordinamentali che vanno in una direzione credo diversa è quella che in realtà il nostro sistema si regge pesa sul nostro sistema al di là delle indicazioni culturali ecco i programmi come tali non esistono più ma comunque esistono indicazioni o linee guida ma al di là di questo pesa l'assetto strutturale della scuola cioè pesano l'articolazione delle cattedre delle ore come si fa l'organico e così via questo è il nocciolo duro che è difficile è la noce che è difficile schiacciare perché se ciascuno ha determinate ore e così via delle sue materie e così via e la cosa ovviamente diventa complicata una certa tradizione di solitudine del docente una cultura del risultato ancora scarsa nonostante l'introduzione del sistema nazionale di valutazione allora a questo punto che fare qualche modesta proposta a ordinamenti invariati c'è comunque un largo spazio l'abbiamo visto per lavori come dire sulle aree di confine e di intersezione tra discipline è possibile utilizzando gli strumenti dell'autonomia scolastica utilizzando l'organico di potenziamento o meglio l'organico dell'autonomia è possibile già oggi con opportuni interventi nelle singole scuole affrontare appunto questi aspetti di interrelazione che possono riguardare diverse cose gli esempi sono stati fatti non voglio farla troppo lunga collegamenti tra letteratura e scienze tra italiano e storie non solo italiano e storie ma scienze eccetera è possibile fare tante cose in questo senso la domanda è e poi la seconda cosa che possiamo fare è utilizzare lo strumento anche questo fine lo strumento della formazione dei docenti qui abbiamo una nuova opportunità che è il piano nazionale di formazione dei docenti che consente di fare operazioni di questa natura adesso noi il coordinamento ispettivo dell'Emilia Romagna ha proposto un paio di interventi formativi quest'anno ne farà anche il futuro immagino lo faranno i colleghi che sono rimasti per esempio uno che riguarda docenti di italiano e di matematica e scienze della scuola secondaria di primo grado e del primo biene di secondo grado che riguardava proprio la questione dell'italiano come lingua di studio come lingua veicolare come lingua di studio in relazione del fatto per esempio che gli esiti negativi quando sono molti degli esiti negativi delle prove invalsi di matematica sono riconducibili alla scarsa comprensione del testo magari chi ha formulato può formulare testi più chiari però c'è chiaramente un problema di capacità di comprensione si può immaginare innovazioni più ardite io penso di sì e qui viene la parte che impegna esclusivamente il sottoscritto per esempio si può immaginare un passaggio radicale da una didattica per discipline a una didattica per temi e problemi quello che stanno cercando di fare in Finlandia per esempio io sarei cauto in Italia a introdurre una cosa di questo genere soprattutto a introdurla in termini generalizzati perché sappiamo che abbiamo dei rischi il rischio che l'interdisciplinarità si trasformi in forme di superficialità di pressapochismo nel rischio di smarrire diciamo il rigore delle discipline e quindi non lo propongo però per esempio si potrebbe sperimentare qualcosa del genere nell'ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado già adesso nell'ordinamento il quinto anno è un anno particolare l'esame futuro dovrebbe essere appunto giocato ma già adesso per esempio la prima prova era di questo tipo giocata su competenze interdisciplinari oppure la seconda prova per esempio di matematica al liceo scientifico già da alcuni anni ha un problema dei due negletto ma un problema che ha a che fare con situazioni reali bene tutto questo potrebbe essere interessante che il quinto anno fosse giocato su un compresso di temi di argomenti per ciascuno dei quali le discipline concorrono a costruirne diciamo il contesto da diverse sfaccettature peraltro questo aiuterebbe a risolvere un problema che abbiamo e cioè quello che tutte le discipline che hanno un carattere diacronico finiscono il loro programma chiamiamolo così alla prima metà del novecento quando va bene quando va bene ecco in un liceo artistico qualche anno fa ho trovato all'esame di stato docenti che erano preoccupati per il fatto che nella prima prova era uscito una nella parte appunto che riguarda le tracce di carattere artistico letterario artistico sì artistico era artistico letterario era c'era un un riferimento a c'era un riferimento ad un pittore ad un artista della seconda del novecento e non c'era un artista che dice noi questo non l'abbiamo fatto per dire un esempio quindi possiamo provare a fare una cosa e poi dobbiamo credo lavorare sulla ripeto sulla parte dura del sistema classi di concorso a maglie più larghe possibilità di puntare molto sulla formazione in servizio come già abbiamo detto infine e concludo perché sono stato troppo lungo la formazione iniziale dei docenti qui torniamo al ruolo dell'università abbiamo bisogno che nella nuova formazione di docenti particolarmente quella della secondaria anche qui segnalati descritto da un nuovo decreto legislativo ci sia non soltanto come previsto i crediti in cui ci sono contenuti di carattere pedagogico didattico eccetera ma piuttosto abbiamo bisogno che anche nella parte della preparazione disciplinare nella parte della laurea magistrale ci sia sostanzialmente l'idea che al di là delle estreme successive specializzazioni ci sia la necessità di formare persone che siano in grado a scuola di fornire i nuclei essenziali delle discipline e qui c'è un problema che attiene l'eccesso di specializzazione anche all'università concludo vi ringrazio un tentativo di dare un contributo a questa materia grazie benissimo ringraziamo moltissimo i relatori per i rispettivi contributi e a questo punto daremmo avvio liberamente all'auspicato dibattito perché sicuramente questi temi di spunti ne offrono prestano il fianco a approcci del tipo più diverso anche molto critico credo che qui abbiamo una serie di relatori che possano non temere anche tra l'altro in virtù del loro differente punto di vista insomma approcci e confronti di tipo critico e adesso insomma speriamo che sia l'occasione per approfittarne e per uscirne a conclusione di questo breve insomma di questi brevi lavori tutti con qualche spunto o quantomeno qualche sussulto critico in più avendo focalizzato la nostra attenzione su questi temi di fondo abbiamo a disposizione il microfono portatile quindi invitiamo chi volesse dire proporre suggerire qualcosa a fare 100 perfetto salve intanto grazie io mi chiamo Rosa Carlucci vengo da Unici di Sassomarconi Borgo Nuovo insegno alla scuola primaria quindi parto dal professor Schiavone che citava i programmi dell'85 dove mi sono ritrovata e per tante cose purtroppo siamo fermi ancora lì perché oggi non ci sono più programmi oggi parliamo di indicazioni nazionali abbiamo degli input poi tutto è lasciato un po' all'autonomia non tanto dell'istituto quando del singolo della singola docente e quindi ci sono tante cose da vedere perché io non amo tanto dire docente di scuola primaria quanto più maestra elementare maestra elementare vuol dire che metti il semino e quel semino poi ci si aspetti sbocci prima o poi ma è tanto difficile è tanto difficile perché ho trovato spunti su ogni intervento intanto parto dalla cosa più importante secondo me in quello che ho visto in questi anni che è la formazione del corpo docente che purtroppo non c'è voglia noi dire sì abbiamo il bonus oggi abbiamo il bonus io mi sono comprata il tablet io mi sono comprata il computer nuovo io sono referente per la formazione del mio istituto e ogni volta che organizzo un corso che mi sembra interessante la partecipazione è sempre discutibile perché? perché ci sono altre priorità perché non abbiamo gli strumenti e quindi il tablet è necessario è vero è vero tutto le LIM in classe le abbiamo da pochissimo quindi i ragazzi oggi hanno mille stimoli la lezione cattedratica è assolutamente superata quindi va benissimo così e quindi ci attrezziamo di strumenti ma le basi nostre individuali come formazione secondo me non ci sono ancora quindi mi ritrovavo in tante troppe cose poi noi siamo un po' tuttologhe alla scuola primaria non so quante quanti colleghi ci sono della primaria forse nessuno oggi perché infatti avevo qualche perplessità alla partecipazione quando ho letto il titolo però a me interessa io insegno italiano storia geografia quindi tutto ciò che è l'ambito umanistico però insegnare una scuola dove c'è la prevalenza non siamo tornati al maestro unico dove c'è la prevalenza vuol dire che io domani adesso insegno con una collega che fa il part time quindi io faccio italiano tutto ciò che è l'ambito antropologico umanistico lei fa scienza matematica domani mi troverò a fare matematica ma anch'io sono in panico l'ammetto perché perché mancano secondo me le risorse io ho bisogno di essere formata poi tutto ciò che faccio per conto mio per scelta mia personale è un conto ma secondo me c'è necessità che venga proposto venga proposta perché io ribadisco e sottolineo quando poi parlo con i colleghi noi siamo un istituto comprensivo quindi abbiamo i tre ordini di scuola parlo con le colleghe i colleghi della scuola media chiamiamola ancora così mi dicono insomma che hanno avuto questa formazione l'altra formazione un docente diceva l'altro chi ha avuto la maestra unica perché siamo tornati a quello con le indicazioni e viva la libertà di insegnamento ma ognuno fa un po' come è quel che crede ci sono tante difficoltà ma proprio di interlocuzione già all'interno dell'istituto quindi immaginiamoci ad allargare l'ambito quindi le difficoltà le vedo tutte le sento tutte quando vengono fatte proposte per la formazione secondo me non siamo preparate io parlo al femminile perché nella scuola primaria in realtà siamo per la maggior parte donne ma non siamo preparate all'idea della formazione la formazione è quella che dovrebbe essere uso il condizionale non a caso perché non lo è ancora non siamo pronte noi e immaginarci quello che possiamo trasmettere a quelli che sono bambini e li lasciamo ragazzi perché noi li prendiamo bambini e li lasciamo ragazzi e mi sembra per noi io almeno ho tutto il carico il senso di colpa abbiamo la LIM su 20 persone sono in 5 saperla utilizzare perché non siamo formate abbiamo lo strumento in classe non abbiamo la possibilità di utilizzarlo perché non c'è stato un corso di formazione per quindi sono i ragazzi che ormai avendo mille stimoli magari io ho visto scene che sono un po' tristi in cui è il bambino la bambina che ti dà il suggerimento no guarda clicca lì tocca lì e vedrai che sono cose importanti non vorrei rubare tempo però vi dico che secondo me bisogna lavorare tanto su noi sulla formazione poi il fatto cultura umanistica e cultura scientifica anche lì io mi sento forte nelle mie materie perché sono i miei studi perché ma domani perché accadrà anche a me che adesso lavoro con una collega che fa per time io faccio solo italiano e sono anni che va così e quando mi troverò a fare matematica e scienze cosa faccio? studio la mattina a casa e poi improvviso la lezione o possibilità di formarmi quindi secondo me la parola chiave è la formazione del corpo docente per poi ovviamente trasmettere a questi bambini perché io li prendo bambini e ribadisco e li lascio ragazzi sicurezze ma per loro stessi e poi a cascata perché ribadiscono mettiamo il semino e poi ci saranno le medie inferiori le medie superiori e continueranno i loro studi quindi semplicemente bene grazie raccogliamo lo spunto della collega lo passiamo al dottor Schiavone forse per la prima risposta che mi sembra quello da cui partire naturalmente ci sono già degli altri interventi allora li raccogliamo magari in sequenza e poi dopo passiamo ai relatori grazie tra l'altro sono una collega di primaria anch'io quindi non sei sola magari i due interventi si appunto magari può andare bene una risposta unica sì gli stimoli sono tanti allora per quanto riguarda gli approcci così questa dicotomia che si avverte parto da lì prima e poi vendo allo specifico appunto della scuola primaria mi premeva sottolineare che io l'ho verto in linea generale e avendo fatto in anni recenti così per passione mia una specialistica in antropologia culturale qui a Bologna perché è una mia passione da sempre ho notato tristemente una una grande proprio sì contrapposizione ancora e penso tipicamente nel nostro paese non è così dappertutto tra antropologia fisica e antropologia culturale già questo è pazzesco perché come fai a studiare antropologia culturale se sei totalmente ignorante sulle fasi proprio della formazione anche preistorica biologica su tutta una serie di cose scientifiche che io mi sono dovuta andare a cercare andando personalmente a fare degli studi alla facoltà al polo Ravennate dove si fa archeologia beni culturali allora c'è un approccio un po' diverso ma facendo antropologia culturale a Bologna ho notato proprio ancora tra gli accademici questa contrapposizione e ancora quell'approccio per cui e lo dico da entrambe le parti sia degli antropologi culturali che fisici di parlare male del vicino cioè noi abbiamo la verità agli altri questo cioè comunque voglio dire è ancora molto forte così in questo paese per cui per forza tutto il resto va a cascata perché c'è ancora tantissimo questa cioè parli con l'esperto di DNA e ti dice la sua versione di biologia eccetera e ti dice ah beh ma quegli antropologi cosa vuoi cioè loro tutti teorici no letterature parli con gli altri ah ma gli antropologi fisici perché perché abbiamo tutto un bagaglio sulla negatività storica dell'antropologia fisica per cui ci sono tutti questi preconcetti e questo cioè si ritrova poi in tutte le nostre discipline dell'area scientifica e dell'area umanistica proprio a livello accademico io lo vedo ancora tantissimo lavorando nella scuola primaria sì è vero che ci sono state tante riforme però negli ultimi decenni queste dicotomie a mio avviso si sono come dire sono aumentate sono state calcate dove si lavora nel tempo pieno generalmente la distinzione è proprio tra chi fa l'area umanistica e chi fa quando sono due insegnanti chi fa l'una e chi fa l'altra e si arriva al paradosso ma è la norma che quando si lavora per classi parallele gli insegnanti dell'area umanistica fanno programmazione per conto loro gli insegnanti dell'area scientifica fanno programmazione per conto loro di classi diverse manco si incontrano quasi che è allucinante però è così quest'anno io per la prima volta mi ritrovo a insegnare senza averlo scelto ma sono capitata perché avevo chiesto il trasferimento in una scuola dove si fa solo moduli e c'è l'insegnante prevalente e anche io sono rimasta esterefatta quando perché non non c'era abituata non pensavo neanche più che esistesse però mi è stato imposto di fatto per cui sto insegnando quasi tutto insomma tranne poche cose sto insegnando quasi tutto però di fatto viva Dio mi ritrovo ad avere l'approccio interdisciplinare che io amo perché altrimenti avrei dovuto fare o una cosa o l'altra ed è chiaro che avendo io una formazione antropologica è ovvio che preferisco se tu dirigente mi fai fare l'area su cui ho più formazione però se posso avere la possibilità di lavorare in maniera interdisciplinare sono ben felice la scuola di Mario Lodi per intenderci quella in cui si lavora per pratiche per temi la scuola io dico anche di quando io ero piccola perché non demonizzo il passato pensiamo sempre che il passato fosse peggio invece secondo me no comunque questo è un altro discorso grazie grazie del contributo penso che comunque si possa che raccogliamo abbiamo altri contributi altri spunti in questo primo giro ecco perfetto io sono un po' polemica mi perdonerete spero insegno latino e greco quindi faccio parte di quella nutrita stirpe di classicisti non abbastanza classicisti eccetera di buono abbiamo è che lavoro in una scuola in cui mi è stato permesso di elaborare dei percorsi interdisciplinari a sì non io personalmente un gruppo di docenti di latino e greco ha elaborato grazie al coinvolgimento attivo partecipe al dono del suo tempo da parte di un collega qui presente professor Graffi ha elaborato parecchi percorsi interdisciplinari questo ha voluto dire però che noi non ci consideravamo ed è questa un po' l'impressione che io ho avuto da alcuni dei vostri interventi dei tuttologi cioè io non penso di essere e non voglio essere una tuttologa vi faccio presente un attimo da quando io sono diventata insegnante 30 anni fa ho dovuto imparare la legislazione nuova per adattarmi di volta in volta alle diverse leggi sulla scuola dalla legge Moratti alla legge Gelmini alla buona scuola e tutto il resto sono diventata tutor dell'alternanza scuola-lavoro e ho dovuto imparare la legislazione relativa all'alternanza scuola-lavoro poi dopo sono coordinatrice di classe e quindi ovviamente devo avere ben presente quali sono le cose da dire o da non dire per all'interno del rapporto docente genitori e tutto il resto e quindi devo essere un'esperta giuridica insomma mi si chiede secondo me ci si chiede a noi insegnanti una tutologia che credo non sia dovuta non sia dovuta e perdonate nemmeno pagata come dovrebbe adesso addirittura mi si chiede di allargare le maglie ulteriori delle delle discipline cioè io mi sono laureata in latino e greco avendo fatto quattro concorsi in cui ho sempre dato italiano trent'anni fa italiano triennio sto dicendo perché triennio fa parte della mia classe di concorso mi si chiede di diventare docente commissaria esterna di italiano alla maturità ultimo anno ok va bene mi metto a studiare non lo studio da trent'anni mi metto a studiare a ristudiare quelle cose lì dalla sua proposta professor Bergianti penso addirittura che io debba imparare ulteriori altre materie no io credo che ci vorrebbe all'interno della scuola quel tempo che noi non dovremmo rubare alla didattica regolare per fare quello che abbiamo fatto con il professor Graffi Euclide in greco matematica fisica in greco Archimede Polibio in greco fisica in greco ok quest'anno faremo Ptolemeo in greco e Galileo in latino per parlare di dove è la terra se la terra è piatta se la terra non è piatta ma tutto questo non può essere fatto come la sua proposta mi diceva un attimo fa al quinto anno quando questi poveri cini mi perdoni sono bolognese li chiamo cini questi poveri cini hanno anche test accesso da preparare per l'università perché sono anticipati e non posticipati e oltre all'esame di maturità per cui io credo che nelle proposte ci sia un po' di bellissima utopia ecco però mi sembra che sia a noi sia ai nostri poveri cini si chieda un po' troppo grazie grazie mille abbiamo qualche altra mano alzata no? allora passiamo un giro di risposte bene allora chiedo ai relatori chi si vuole candidare per primo facciamo l'inverso facciamo l'inverso facciamo l'inverso comincio io per quanto riguarda la scuola primaria la scuola primaria è come dire la vicenda della scuola primaria soprattutto di alcune scuole primarie anche qui la situazione appunto è diversificata credo che sia un bel paradigma di eterogenesi dei fini nel senso che siamo passati da una situazione nella quale la pluralità dei docenti è stato certamente un fatto positivo che ha diciamo così consentito di migliorare nettamente la qualità delle diciamo così delle modalità di formazione iniziale dei nostri bambini però a un certo punto ha prodotto una specializzazione anche questa diciamo comprensibile fino a un certo punto perché nessuno è tuttologo e nessuno chiede che si siano dei tuttologi però il problema è che in diverse parti è accaduto una sorta di secondarizzazione precoce cioè quando succede che la distinzione diventa così cristallizzata come è stato indicato in alcuni di questi interventi evidentemente c'è un danno quindi è bene che ci sia il maestro che è più specialista di un'area piuttosto che un'altra ma soprattutto a questo livello di istruzione ma non solo è assolutamente indispensabile che la programmazione sia unitaria che l'interrelazione sia stretta che gli scambi siano stretti io dico anche che almeno fino ad un certo diciamo livello di classi che ci sia anche periodicamente perché no uno scambio di ruoli che può consentire diciamo una crescita reciproca ecco a chi è affidato tutto questo ecco nel sistema nostro ecco non è esattamente vero che le indicazioni che dicono sostanzialmente queste cose la loro interpretazione e la loro applicazione sia affidata al singolo docente magari appunto sotto l'usbergo della libertà di insegnamento in realtà dovrebbe essere affidata alla scuola e cosa si intende per scuola? Si intende gli organi della scuola il dirigente il collegio dei docenti il consiglio d'istituto una proposta organica di offerta formativa il famoso POF oggi offerta formativa esattamente al nocciolo dovrebbe essere questo cioè quanto si condivide nella scuola per fare un'offerta organica e unitaria all'utenza in relazione appunto agli obiettivi generali quindi io penso che i casi che sono stati indicati siano casi per i quali è possibile un superamento un miglioramento sulla base appunto di una diversa impostazione che si può avere in quella scuola o in altre scuole che abbiano appunto interpretato in questo modo per quanto riguarda invece la questione si sapevo che avrei fatto delle provocazioni e quindi capisco benissimo per primo che ci sono delle controindicazioni e ho già detto che non propongo di farlo domani e mi sono permesso di farlo anche perché appunto non ho nessuna autorità per cui insomma è un'opinione assolutamente personale però ecco dico questo che per quanto riguarda la questione del fatto che secondo me occorre avere maglie più larghe per quanto riguarda le classi di concorso io penso questo non significa naturalmente che chi ha insegnato una certa cosa per 30 anni io gli chieda che da domani deve insegnarne una completamente diversa non è questo immaginavo diciamo per il futuro nella formazione dei futuri insegnanti si debba avere una maglia un po' più larga che non vuol dire naturalmente che si deve ridurre la formazione ma appunto bisogna evitare gli eccessi di specializzazione poi certo nella scuola la cosa è fidata essenzialmente al team al gruppo al contributo reciproco dei diversi docenti quindi il lavoro in comune è assolutamente fondamentale ci chiedete troppo è chiaro che se questi progetti interdisciplinari come lei ha citato sono qualcosa che si aggiunge a tutto quello che si fa normalmente è chiaro che allora diventa appunto lavoro in più eccessivo eccetera e sarebbe e anche dal punto di vista come dire dell'impatto non è non ottiene tutto l'impatto che dovrebbe ottenere cioè l'idea è quella che quel tipo di approccio fosse un approccio che coglie almeno in parte che assorba in sé almeno in parte diciamo le finalità gli obiettivi traguardi che le singole discipline si propongono questo peraltro vale anche ed è questa è un'altra provocazione che non ho fatto prima la faccio adesso vale anche per questa bomba che è stata l'alternanza scuola lavoro nei licei è stata una bomba ma è stata una bomba in che senso nel senso che l'interpretazione giusta che si deve dare ovviamente non è qualcosa che si sottrae ma è un modo diverso la sfida è quella come faccio a ottenere i risultati in termini di competenze e conoscenze che mi sono prefisso che ha prefisso la mia scuola che è prescritto nelle indicazioni eccetera anche attraverso una limitata esperienza in un contesto lavorativo e questo richiede appunto non di aggiungere qualcosa ma di modificare lo so lo so di modificare di modificare beh certo però insomma sulle spalle però io ripeto ho fatto un insegnante fino a pochi anni fa capisco il problema non possiamo però pensare che come dire tutte le volte che si fa un'innovazione è un carico in più non dico lo pensi lei dico in generale insomma è certo che è un carico in più ma fa parte tutte le professioni hanno dei cambiamenti non è che dopo di che la professione va riconosciuta di più meglio eccetera siamo assolutamente d'accordo per quanto riguarda la questione di un lavoro per progetti all'ultimo anno è un'idea diciamo è un'idea che secondo me andrebbe considerata dopo di che chiaramente chi è sul campo la valuterà e posso ammettere che ci siano delle controindicazioni rimane però un problema ripeto noi andiamo negli esami di stato e in italiano regolarmente noi sentiamo svevo pirandello ed annunzio d'annunzio svevo e pirandello quando c'è uno particolarmente audace arriva forse a Calvino ma ci vuole veramente una molto audace o montale meglio ecco forse per dire italiano potrei fare la stessa cosa di storia dove si arriva alla seconda guerra mondiale e poco altro possiamo continuare così possiamo aggiungere perché la storia va avanti non credo che possiamo quantitativamente secondo me un cambiamento di paradigma a un certo punto sarà indispensabile ma è un'opinione puramente personale dunque io volevo dire brevissimamente poche cose io ieri ero al liceo Torquato Tasso di Roma un liceo classico dove ho partecipato appunto a un progetto diciamo che portava una lezione pomeridiana abbiamo letto un po' Archimede in greco qualcosa di simile a quello di cui parlava prima la professoressa e si è affrontato appunto argomenti interdisciplinari se volete perché c'era il problema delle forme d'oriche insomma e c'era il problema della matematica il problema della fisica il problema della storia il problema della tecnologia con cui era connesso e così via però è un come dire quindi era una cosa tipicamente interdisciplinare che però partiva dalle singole discipline cioè c'era un professore di matematica un professore di greco e si faceva in più cioè io credo che queste cose vanno raggiunte dopo diciamo lo studio disciplinare non in sostituzione dello studio disciplinare questa mi sembra una cosa importante però i ragazzi che partecipavano all'iniziativa erano 5 delle centinaia di studenti del tasso e il motivo per cui mi hanno spiegato le professoresse del tasso per cui la grande maggioranza dei studenti non poteva aderire a un progetto culturale di questo tipo è perché tutti quanti devono fare progetti che rientravano nell'alternanza scuola-lavoro quindi l'alternanza scuola-lavoro impedisce di portare avanti cose del genere ecco la mia impressione che l'alternanza scuola-lavoro abbia senso solo per quelle scuole che sono professionalizzanti e qui vanno preparati diciamo per un certo lavoro che gli studenti del liceo classico debbano andare a fare un po' un lavoro qualsiasi magari come barman insomma da qualche parte sottrae il tempo impegno il lavoro insomma quindi io non condivido naturalmente l'ottimismo dell'ispettore diciamo su quello che è stato fatto negli ultimi decenni mi fermo a questo voglio un applauso sulla alternanza scuola-lavoro me l'ha rubato lui ma insomma a parte gli scherzi bravi bravi no a parte tutto oggi siamo qua per scambiarci delle idee perché l'ho detto in partenza insomma sono sono talmente grandi i problemi di cui stiamo parlando che vanno a intaccare decisioni politiche concezioni immagini del mondo quindi cioè io per quello insomma che è la mia esperienza ormai di tanti anni di lavoro anche con le scuole di progetti di incontri con gli insegnanti cioè io parto da parto sempre da questo proposto prima di tutto cercare di capire se siamo tutti d'accordo sul fatto che effettivamente esiste un problema di formazione degli studenti che quando escono da una qualsiasi quando fanno la maturità di qualsiasi indirizzo poi sono in grado di esprimere dei giudizi di tipo corretto su materie importanti ora in questo caso come questioni di tipo scientifico ma vale anche per questioni di tipo umanistico pur non essendo specialisti in quel campo perché è così il problema quindi io ovviamente personalmente non voglio insegnanti che non siano specialisti cioè gli insegnanti devono essere specialisti nella loro materia quello così come all'università il problema come veniva segnalata anche l'università è un problema generale è che spesso si resta intrappolati nel proprio specialismo e non si riesce a poi il modo in cui uscire dallo specialismo e fare un lavoro che ovviamente addirittura si parla anche della scuola primaria o degli elementari in cui è stato detto che questa contrapposizione perché insomma l'elementari dovrebbe essere proprio un terreno privilegiato da questo punto di vista in cui insomma il problema viene successivamente quando veramente si inizia a parlare di specialismo in maniera strutturale come programmi cioè dalle scuole medie ma la battuta faccio sempre io è che poi i bambini per loro natura sono predisposti ad apprendere in un certo modo per cui io faccio sempre la battuta che i bambini elementari sono tutti evoluzionisti e quando arrivano fuori dalla maturità di luceo sono diventati tutti creazionisti non si sa come mai avviene questo passaggio quindi il punto è vi faccio questa domanda chi è qui in questa sala che con competenza ora si potrebbe alzare spiegare a tutti gli altri tecnicamente da un punto di vista medico tecnico scientifico che è bene vaccinare i bambini invece che non vaccinarvi chi è che saprebbe spiegarlo tecnicamente da un punto di vista di medico oppure andiamo al caso c'è stato qualche anno fa caso Vannoni stamina chi è che di noi è in grado di entrare in un dibattito specifico su stamina io sto dicendo questo qual è la formazione anche che noi dobbiamo dare agli studenti di tutti gli indirizzi perché io più che al classico penso agli istituti professionali cioè perché io in genere in linea di massima penso che uno dal classico dallo scientifico esca con qualche idea però insomma però ecco sto perché ora sto largheggiando ma cioè gli Stati Uniti hanno il 50% degli intervistati che dichiara di non che ha dei dubbi sulla teoria dell'evoluzione quindi i miei problemi sono questi cioè la questione è dal mio punto di vista uno se siamo tutti d'accordo che questo è un problema perché dice no a me non interessa che uno creda che non siamo andati sulla luna oppure no non è un problema che uno creda che sia creazionista vabbè allora siamo tutti d'accordo e io vado a vedere la Fiorentina siamo a posto vado a vedere una partita di calcio ma se c'è questo problema ci stiamo tutti interrogando su qual è il modo migliore per far sì che un qualsiasi cittadino un qualsiasi studente poi diventa cittadino tutti noi che andremo a fare gli insegnanti di un certo tipo oppure andremo a fare un altro tipo di professione poi però non andiamo a inseguire le notizie false in internet o non sappiamo più distinguere se la notizia di vercio è vera oppure no perché ci sono persone che non sanno più neanche fare questo tipo di distinzione abbiamo tutti i dati e oggi siamo in questo meccanismo quindi quali sono gli strumenti che noi dobbiamo fornire agli studenti perché oltre al loro specialismo poi possano diciamo però diciamo avere dei giudizi riuscire quindi il discorso della diciamo ora appunto le proposte sono proposte quindi poi se ne può discutere però una fase in cui tutti riusciamo a uscire ma all'università chi è che ha fatto l'intervento su antropologia fisica cioè appunto poi diventa diventa sempre Lucio Lusso lo sa benissimo voglio dire il problema degli specialismi no il libro non glielo faccio pubblicare sa perché lei non l'ha studiato cioè il problema delle cattedre degli raggruppamenti disciplinari cioè è un problema che si moltiplica sempre di più e tra l'altro se uno magari si mette a fare un discorso non specialistico viene penalizzato dal punto di vista della carriera accademica per dire quindi sono infiniti problemi però siccome a noi interessa il discorso della formazione e se lo riteniamo importante che sia giusto dare una formazione su come si fa minimamente a stabilire se una cosa è più o meno plausibile più o meno vera nei limiti di queste parole quindi l'idea di trovare un percorso di formazione dove ognuno poi resta nel proprio specialismo diciamo poi chiudo noi in Italia abbiamo circa gli statisti che sono decidono abbiamo il 50% di persone che non leggono niente in un anno non leggono nulla non leggono un libro non leggono niente quindi tutto questo amore per la lettura non viene trasmesso nelle scuole quindi come facciamo allora a trasmettere quindi i punti sono questi come uscire dallo specialismo perciò ci vorrebbero delle io non so come si può fare io non chiederei mai a un docente di discipline scientifiche con quelle due ore che ha come fa a fare anche la storia della scienza cioè bisogna pensare qualche formula o qualcosa che sia però appunto non lasciarlo anche io conosco tantissimi licei in cui abbiamo fatto progetti e abbiamo portato avanti però deve essere un'indicazione di tipo nazionale cioè deve essere qualcosa per cui si dice adesso questo problema va risolto impostando le questioni in un certo modo per cui ci vogliono ovviamente la formazione di tipo adeguato ma nessun cioè io non chiederei mai a un docente appunto di una singola disciplina di farsi carico anche di quella cosa lì cioè è un problema bisogna capire come si può arrivare a realizzarlo ecco per questo cioè è importante poi dopo ascolto che io va bene mi faccio dare il parere da mia moglie senti il mio amico dirigente scolastico le persone nella scuola sono tante e bisogna fare le finte non bisogna fare le finte consultazioni come sono state fatte per la precedente riforma ecco cioè bisognerebbe fare anche dal mondo della scuola capire se siamo tutti d'accordo che questo è un problema capire come si può arrivare alla risoluzione di questo problema altrimenti come hai scritto anche tu fra qualche anno nessuno si preoccupereà più se è il sole che gira intorno alla terra oppure no o come nel film Interstellar che spero qualcuno di voi abbia visto gli studenti avranno visto un film di Christopher Nolan spero e Mr. Stella si inizia dicendo che a scuola si inizia appunto a dire che non ci sono mai state le missioni spaziali perché era tutta una bufa inventata dalla NASA secondo me era la parte migliore del film era la parte migliore del film forse l'unica effettivamente però quindi ecco direi essere d'accordo sul fatto che il problema c'è e poi cercare di capire quale può essere una soluzione senza ovviamente io insomma l'ho detto all'inizio questa cosa per cui doppio scontato avendo amici e avendo lavorato cioè so benissimo cosa devono fare oggi gli insegnanti che non ha niente a che fare con la loro professione il loro mestiere o con cosa sono sobbarcate di questioni o vabbè o non vado avanti perché poi per toccare una questione che mi sta particolarmente a cuore la collettività paga circa 600.000 ore alla settimana di programmazione per i docenti di scuola primaria due ore settimanali moltiplicate per il numero di docenti fatevi conti di quanti posti aggiuntivi possono essere come dire considerati perché perché i docenti devono garantire e io spero che ancora questa cosa se la ricordino ero nelle scuole manco da meno di quattro anni ma quando era a scuola l'ho sempre ribadito devono garantire l'unitarietà la collegialità e la corresponsabilità dell'insegnamento altrimenti perché impegnare una risorsa così ingente è è un'occasione questa per la scuola primaria che sicuramente sarebbe opportuno e necessario estendere al primo grado perché io continuo a considerare il segmento debole del sistema scolastico italiano la scuola media dove potrebbero dovrebbero essere investite risorse perché chi ha vissuto con quei ragazzi e vorrei che non si pensasse a demagogia a captare benevolenza chi ha vissuto con quei ragazzi sa quale potenzialità rimangono come dire lì che non vengono messe in campo perché perché la scuola non è capace di motivare di coinvolgere di dare un senso reale alle esperienze quotidiane che i ragazzi sono chiamati a svolgere allora partiamo da lì partiamo da appunto dal valutare valorizzare le risorse che abbiamo nella scuola primaria investiamo di più guardate la contraddizione noi abbiamo assegnato dai 12 ai 24 posti dell'organico dell'autonomia potenziato agli istituti superiori in provincia di Bologna ma su 70 scuole secondarie di primo grado 74 per la precisione ne abbiamo assegnato a 24 2 e a 50 un solo posto del potenziato allora andiamo a cercare di correggere queste situazioni andiamo a come dire interveniamo su ciò perché la scuola ne ha assolutamente necessità poi io continuo a considerare che l'insegnamento è il mestiere più bello del mondo lei professoressa sicuramente stanca ma è stanca perché forse i suoi colleghi non l'aiutano non condividono con lei gli impegni che il suo istituto è chiamato a svolgere con i suoi ragazzi poi io l'ho sperimentato e lo auguro sempre ai docenti neoassunti è possibile che capiti e deve capitare che suona la campana nei ragazzi negli insegnanti si accorgono che è suonata la campana e continuano ad andare avanti perché evidentemente stanno facendo qualcosa non ci vogliamo bene ci facciamo del male non vogliamo bene i nostri ragazzi bene allora visto che abbiamo raggiunto gli orari e la condizione di riscaldamento d'epoca rinascimentale insomma effettivamente anzi forse all'epoca qualche bracere l'avrebbero posto ma oggi per la sicurezza non è possibile il bracere noi ringraziamo tantissimo i relatori intervenuti e tutti voi che siete intervenuti e speriamo che qualche spunto sia rimasto e produca appunto questo qualche seme in più sull'argomento